allora entriamo al prezzo attuale sul dax cash quindi batte in questo momento 13.170 non usiamo il decimale aggiuntivo l'idea di fondo di questa operazione è semplicemente la resistenza dinamica che in maniera abbastanza precisa devo dire molto precisa il dax ha appena raggiunto l'attestata anche ieri in verità e oggi è di nuovo su quel livello rappresenta la dinamica resistenziale che in essere da inizio anno come state facendo vedere quindi evidentemente non posso comprare dax qui teoricamente potrei farlo solo in caso di breakout il che chiamerebbe anche un'inversione proprio della tendenza di fondo che è dominante che ci vede segnare sempre dei massimi decrescenti quindi lo short mi sembra assolutamente doveroso si spera anche che vada bene come sempre con un rapporto rischio rendimento molto equilibrato nella fattispecie abbiamo dei punti di stop molto stretti un target obiettivo viceversa molto molto interessante quindi entro in vendita 170 che appena abbattuto vado a cercare un obiettivo a 12.850 ricordando che poi le operazioni vengono chiuse entro le 5.30 quindi verrà poi dato il fixing di quel prezzo ma con un rapporto rischio rendimento addirittura 1 a 3 mi rendo conto che sono in questo momento in un'operatività palesemente contro trend e conseguentemente se è vero che voglio provare ad essere fra virgolette anche aggressivo sul touch della resistenza senza aspettare conferme in questo caso doverosamente devo avere uno stop molto stretto quindi come vedete ci sono 90 punti di stop e abbondanti 200 220 di target un rapporto rischio rendimento direi molto efficace teoricamente grazie a tutti grazie a tutti